buongiorno a tutti e bentornati qui sotto per tubo marilu oggi vediamo una ricetta deliziosissima un secondo ideale in questo periodo di quaresima da realizzare il venerdì perché non ha né carne né pesce e potrebbe essere un'idea veramente carina sia per un antipasto che un secondo diverso dal solito realizziamo pensate un po le polpette di ricotta al sugo buonissime a differenza di tutte le altre video ricette che avete visto non parlerò durante il video ma vi metterò le scritte per dare la possibilità anche a clienti che non riescono a sentire molto bene di poter realizzare comunque la ricetta buongiorno a tutti i nostri spettatori non riescono a sentire molto bene buongiorno a tutti i nostri spettatori non riescono a sentire molto bene buongiorno a tutti i nostri spettatori non riescono a sentire molto bene buongiorno a tutti i nostri spettatori non riescono a sentire molto bene buongiorno a tutti i nostri spettatori non riescono a sentire molto bene buongiorno a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per realizzare tante delizie dal dolce al salato non vi resta che andare qui giù per cercare tutti i link di riferimento per potermi contattare e chiedermi appunto informazioni. Un bacio grande ragazze e alla prossima videoricetta. Ciao!